Eh già ragazzi, esatto, fine settimana degli oggetti volanti, sono tornate le navicelle UFO, sono arrivati di nuovo, prendi il volo in un disco volante o fai volare gli avversari con una granata impulsi. Ora vabbè, delle granate impulsi, chi se ne frega, ma gli UFO... vabbè, dai, almeno però ci saranno soltanto per questa fine settimana, giusto amore? Sì, weekend c'è scritto, quindi in teoria... In teoria speriamo. Al massimo penso rimangano solo fino a Dragon Ball. Eh, magari fino a martedì mattina. Infatti ragazzi, questa è la tempesta prima del paradiso, diciamo così, perché finalmente il 16 agosto uscirà tutta la collaborazione con Dragon Ball e soprattutto anche un nuovo aggiornamento. Prima di continuare però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYTUTTOGRANDE, tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite. Mi raccomando ragazzola, è davvero fondamentale per supportarmi, quindi controllate sempre che su supporto a un creatore ci sia scritto GGYTUTTOGRANDE, tutto attaccato perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo. Grazie però di cuore a chi lo farà, è davvero fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciate un bel mi piace ma soprattutto scrivetevi sotto nei commenti cosa ne pensate di questa situazione. Niente, ormai ogni tanto li devono ritirare fuori, eh. Vabbè. Detto questo andiamoci a divertire con le navicelle. Allora ragazzi abbiamo trovato questa mappa qui che dovrebbe essere la mappa dei punti dove trovare le navicelle. E infatti lì c'è una navicella, ma non eravamo sicuri quindi non ci siamo fidati immediatamente. C'è una navicella lì effettivamente. Allora amore direi una cosa, finiamo di lutare, in senso lutiamo un pochino qui, magari al massimo lutiamo al lotus. E poi ci prendiamo la navicella. Ok ragazzi, eccoci qui. Non mi era mancata assolutamente per niente. Ah, con questo ok si acceleriamo. Sì, sono lì. Posso sparare io da qua? Sì, posso sparare. È vero, posso sparare anch'io che guido. Allora vai, prendiamoli. Ah, è vero che la uno ne ha fatto, il tent è molto più lenta. Eh, io non vedo se ti avvicini così tanto. Eh amore, perché lì... Aspetta, stai tanto voglio un attino provare a prenderli io. Oh madonna! Faccio schifo, faccio. C'è qualcun altro qui, eh. Sì, ok, 30. C'è qualcun altro qua. Sì, sì, a quello sto sparando infatti. Quello è craccato. No, oddio, stanno distruggendo di brutto. Ok, forse è un po' più utile con le build. Ok, l'ho atterrato però, nel dubbio. Allora. Come si faceva a farla riparare, tipo? No, ce l'ho scollegato per uscire. Come ce l'hai scollegato per uscire? Ma no! Eh, c'è gente qua. Eh, eccomi, eccomi, eccomi. Tanto ritorno. Non posso... Eh, amore, io muoio, eh. Perché c'è il tasto scollegato. Rip. E come fa... Eh, allora, aspetta. È un problema questo. Is, is. Ha problem... Ma guardate, ogni volta me lo passo... Vabbè, rimani qui dietro. Vediamo se ci riesco. No, li devo prima uccidere. Eh, rip. Eh, rip. Ok, tutte e due a terra. Tieni. Dov'è l'altro? Ma ce n'era un altro però, tecnicamente. Oh no, vabbè, 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 vabbè. Prova a rianimarti. Oh mio Dio, regà. Comunque, quelle build erano decisamente più rotte. Nel senso che uno magari contro le navicelle tendeva più a buildare. Guarda che quello mi ha rubato il medica. Sì, vabbè, tanto mo' li finiamo, quindi. Vedi se sono due, ti prego, dimmi che sono due. No, è come uno. Ok, fattelo tu. Tant'io c'ho il rift. E andiamo a prendere magari la navicella da qualche altra parte. Banalmente. Allora. Esatto, lì, brava. Dobbiamo andare lì. Perfetto, ok. Sì, diciamo che con le no build, col fatto che le avevano nerfate, sia in difesa che in attacco, potrebbero non essere così sbroccate, ragazzi, eh. Però certo, se state già affaitando contro un altro team e arrivano navicelle e vi rompe le scatole, appunto, non è bellissimo. Allora, io c'ho gli shieldini per te. Ah no, c'ho il barelone. Ah, giusto. Ok, allora qua le clombacche me le faccio molto tranquillamente io. C'è un tizio qua, amore. Dove? Eh, qui nella... Ah, nell'acqua. Ok, 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 ok. Ok. Eh, lascialo. Finché sta lontano direi di andare semplicemente a recuperare la nostra cara amica navicella, se ce l'hanno lasciata lì, ovviamente. Ero molto curioso di provarle nelle no build, ragazzi, le navicelle. Ovviamente, ragazzi, in arena non ho neanche controllato, ma non ci saranno sicuramente. Speriamo che vengano tolte già da domenica, quindi un paio di giorni così molto rapidamente, proprio fine settimana così tanto per. Però potrebbero rimanere anche effettivamente fino a martedì o comunque fino a lunedì almeno. Staremo a vedere. Poi non è detto che spawnino tutte, eh. Quindi magari potrebbe anche non essere proprio spawnata, se magari... Ah, no, aspetta, aspetta, aspetta. C'è sta leggendare, ragazzi. Non posso dir di no, ovviamente. Eh, vabbè, quello però rimane qui. Il problema è che avrò a capire se è giusto il punto anche. Eh, pure quello è vero, eh. Però, tecnicamente... Perché qui non la vedo. O l'ha già presa qualcuno o, molto banalmente, non hanno il 100% di spawn e quindi non è spawnata, molto semplicemente. Eh, l'altra è fuori safe. Eh, no, qui infatti non ci sono. Va bene. A questo punto spero che qualcuno ci arrivi in endgame e così proviamo a sparare noi a una... A una di quelle. Sono tutte le altre fuori, vero? Mmh. Sì, raga, ammazza che sfiga, oh. Però sai una cosa? Io non ho ancora trovato le impulsi. Manco io. Quelle... Però io ho lootato poco. Sì, no, anch'io non è che abbia lootato tantissimo. Però quelle dovrebbero essere, non dico, facili da trovare. Spari da WP praticamente. Sì, anche a me però mi sta venendo a fare l'airdrop. Ho detto, sai che c'è? Non ho trovato la cosa, ma trovo l'airdrop. No, no, c'è gente qui all'airdrop! Prendo la macchina e me ne vado. Oh mio Dio. Mi sparano anche da un altro lato, mi sa. Eh, sparano ovunque. No, no, allora vieni qui, vieni qui, vieni qui. Allora. Sparano da là e anche da là. Amore, c'è il tuo team qui. Eh, amore, sta venendo. Ok. Ti stavo pingando mentre stavo... Oh, ma questo... Ma erano cattivissimi a spararmi. Poi se ne so, poi così, molto tranquilli. Stava la corona, amore, questo. Oh mio Dio. Eh, mo' me la piglio allora. Oh mio Dio. Ok, va bene. Ma che ha tipo quittato la... È scomparsa. No, no, no. Come? È scomparsa la corona? Sì. Ma come è scomparsa la corona? No, non mi dire che... Cioè, se uno poi quitta... Oh, no, no, c'è uno, c'è uno, c'è un altro. Eh, poi ne ho visto un altro ancora. Quello qua l'ho ucciso. Eh, ne ho visto un altro ancora poi. Allora, ecco quello lì. Se ti interessa lì il pompa, c'è la luce un po' viola. Sì, qual è? Spammone. Ah, sì, sì, sì. Sto giocando con quello spammone io. Craccato quello. Sì, oh, craccato pure quello lì giù. Ah, craccato... Mezzo craccato, diciamo, pure quello lì. Quello craccato. Ok, bianchissimo, perfetto. E c'è uno lì e uno lì. Ok, questo distrutto. Questo distrutto proprio. Di brutto. Infatti gli distruggerei quel fungo lì. Si è rischildato quello. Atterrato. Ok, fatti. Mamma mia. Siamo ancora in 15, tra l'altro, raga. Partita infinita. Ah, c'è gente qui, c'è gente qui. Uno l'ho craccato di brutto. E poi non mi sono più intraditto. Io ho craccato l'alberello, atterrato. È un alberello, sì. Non lo so. Oh mio Dio. Mi ha spaccato. Craccato quello dietro la roccia. Ok. E uno mi ha spaccato. Mi devo curare un attimino. Mi ha cicchinato di brutto. E te l'ho detto, attenta. Ti servono gli scillini? Grazie. Allora, tieniti tu anche una colombacca. No, 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 c'ho il pesce. Ok. Oddio. Madonna, uno di questi c'ha... Eh, una buona mira. Ok, uno l'ho rispaccato e l'altro pure, eh. E di nuovo lì. E niente, amore, mi sei passato davanti. Non l'ho vista, la cerchinata. Amore, se ti sono passato davanti e ti ha preso quella cerchinata, avrei potuto prendere me, però, no? Eh, che cavolo ne si ha preso me? Ok. Aia, 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 aia. Io l'ho finito il compagno, io sono one shot, eh. Oh, mio Dio, sono morto. Ma che arma c'ha? Guardalo. Eh, amore, io non c'ho neanche cure. Maledetto. Eh, ma io pure ero messo male. Ma mi ha laserato con qualche fucile d'assalto. Non lo so con che mi ha laserato di brutto. Io è per quello che non uso il pompa su... su... Nelle no build. Bravo, amore. Però mi sa che non ci stanno zone per... Per rianimarmi. Io è per quello che non utilizzo i pump nelle no build, raga. Oh, 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 non so se sono il team da tre, ma sei contro tre, amore. Ok, brava. Perfetto. Ah, sì, sono loro tre. Sono gli ultimi. Ok, bravissima, amore. Attenta, eh. Ah, eccolo qua. Bravissima, amore. Mamma mia, grazie. Perfetto, raga. Ok, raga, vabbè, abbiamo visto che, bene o male, le navicelle così sono abbastanza bilanciate. C'è quei team che abbiamo battuto all'inizio e che hanno tirato giù la navicella e non mi sembravano neanche così forti. Diciamo che sono comunque un ottimo movement e se da sopra hai una buona mira, hai il vantaggio dell'altezza, però ovviamente rischi perché da sotto ti possono sparare in 20.000 modi. Poi nelle no build non c'è neanche tanto l'idea di star lì, ovviamente, a coprirsi con le build, ma ti viene più che altro da sparare e quindi ci può stare. Dai, non sono così malvagie. Me le ricordavo peggio, ecco, diciamo così. Ovviamente vi ricordo il codice creatore GGY, non ti tutto grande, tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite, fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non si è fatto, lasciando un bel mi piace per noi e tutto ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzi! Ciao!